Buon pomeriggio, campo numero uno, di nuovo in campo come ieri, come oggi, come domani ragazzi miei non mancate, non mancate, benvenuti, sedetevi come sempre seggiolino in posizione verticale, cintura di sicurezza e partiamo stagione 2020-2021 con il nostro grande pubblico questa è solo una parte, stanno ancora entrando i nostri amici fans del gruppo rosso del 2007, salutiamo il nostro amico Francesco contro il 2006 giallo, mamma che colori che ci sono oggi parto il cronometro, come dico io, partitella in famiglia cosa significa in famiglia? Vuol dire che oggi il virtuato non conta conta illuminare un pochettino questa via mercadante 133 2007 rosso fa sulla destra il nostro amico Francesco ce la ricordiamo ancora, la palla esce e quindi ragazzi miei, iniziate la stagione, come sempre salutiamo i nostri amici io sono Marco, salutiamo i nostri amici follower gli amici del grande calcio, gli amici del settore giovanile 2007 e 2006, quindi siamo là, ecco metà cambiano solo le maglie, ma poi per il resto siamo sempre qua oggi divertiamoci mettiamoci comodo, una bella bibita bella spremuta fresca oggi ragazzi, miei ci vuole ecco gli altri gialli che sono lì in fondo, il gruppo 2006 giallo è abbastanza ben fornito, anche il 2007 ecco con l'occasione salutiamo il mister Sandro Morreale che guiderà la del 2007 questa nuova stagione 2020-2021 per il 2006 forse, ma non è ancora confermato forse ancora Simone Loria ma ancora non abbiamo bene tutte le ufficialità ecco la maglia nera, il nuovo entry del gruppo 2007 si libera bene, è ancora il 2006 che prova col giallo stanno aumentando i tifosi dietro la porta curva sud, curva nord siamo proprio nel limite quindi ragazzi, riparte il circo noi ci auguriamo veramente che questo periodo sia stato positivo per tutti mi auguro che il brutto sia alle spalle quindi che si torni a giocare, a pensare solo a divertirci al calcio mi becca, mi becca la palla è buona, tutto buono forse mi beccava la borsa parte il cross del giallo del 2006 22 luglio, gran caldo, grande umidità qui in via Mercadante a Torino zona nord, venite a trovarci ragazzi non state a casa seguite i nostri social i nostri sito a internet scuola, calcio, Mercadante basta stare a casa sono state a casa 4 mesi, basta ministro Alessandro Moreali dell'anno scorso 4 mesi fa alla guida della Juniors Provinciale quest'anno è passato alla 2007 salutiamo tutti i ragazzi che hanno lasciato i due gruppi salutiamo tutti i mister che hanno lasciato questa società 4 mesi fa salutiamo tutti dalla scuola calcio alla Juniors salutiamo tutti quelli che hanno lasciato questa società e auguriamo a tutti naturalmente un buon 2020-2021 calcistico chiediamo il benvenuto a tutti quelli nuovi che ce ne sono tanti ce ne sono tanti qualcuno nel 2006 qualcuno nel 2007 0-0 quinto minuto ma conta poco tutto ancora il 2006 in avanti è partita abbastanza pari 2007 calcio d'angolo vediamo un po' se no recupera il nostro amico difensore del 2007 la palla è ancora subito sulla destra bello lo stop del nostro centrale ecco senza arbitro quindi va tutto bene si lancia sulla sinistra il 2006 zig zag funambolico la palla esce abbiamo anche nella telecamera come Sky come Mediaset che cammina a bordo campo spettacolo i potenti metri del mercadante a parte un bel cross di testa spizzica la palla esce e come sempre queste campane sono gentilmente offerte dal parroco della chiesa dietro di noi le campane fanno parte del mercadante quindi se venite qua il sabato e domenica e nei giorni feriali bravo il nostro giallo 2006 entra in aria entra al sea dribbling bravo il difensore mette esperienza e potenza e fa ripartire di nuovo il giallo quindi come vi abbiamo detto le campane sono gentilmente offerte dalla società mercadanti in collaborazione col parroco venite andate anche a messa se volete andare domenica sabato attualmente verificate un attimino le gare del mercadante per non si può rifiutare né la messa né il mercadante laterale controlliamo il tempo 0-0 settimo minuto dopo andiamo a rubare qualcosa anche vicino alle panchine andiamo un pochettino oggi giornata almeno un'idea di ieri bella l'apertura forse troppo lunga in avanti ancora il 2006 attenzione un bel triangolo corto la palla in aria parte un cross di destro ancora il nostro amico giallo attenzione confusione confusione si cerca di uscire in modo un po' così fortunoso la palla liberata a stento dal 2007 recupera il 2006 la palla ancora centralmente bella il passaggio centrale tanta corsa in questi primi minuti siamo al nono minuto del primo tempo stagione 2020 2021 siamo con gli gialli del 2006 i rossi del 2007 22 luglio 2020 niente non si riesce ancora bravo il difensore con la maia nera in prova il mercadante riparte il 2007 treno centrale attenzione spostarsi dalla riga rossa niente non si sposta nessuno qua apertura panoramica bella l'apertura sul filo del fuorigioco il nostro laterale palla centrale qualche goccia di pioggia qua a Trino Nord non ci ferma però ancora 0-0 parte il nostro rosso palla lunga pedalare apertura sulla destra 0-0 portieri abbastanza inoperosi in questa prima parte del primo tempo forse anche qui due tempi da 20 minuti come ieri rimpallo i gemelli gialli sul stesso lato parte la palla la palla è uscita è lui devi giocare a palla apertura bella centrale attenzione portiere esce poi ritorni dentro portiere nuovo anche questo portiere del 2007 nuovo vediamo maglia bianca quindi sicuramente un new entry gruppo 2007 circolazione di palla buona ecco la nostra panchina rossa 2007 dirigenti laterali e mister santo moreale col cupetto blu c'è anche il nostro direttore sportivo Michele Norato a centro campo riesce a recuperare la palla bella circolazione di palla ma il 2007 non ha paura quella è bella eccolo 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 si accentra tiro deviato il difensore spazza via ancora la palla in area di rigore parte un bel cross tiro il portiere ancora il 2007 in avanti che prova a spingersi dopo qualche minuto di predominio giallo ancora il 2007 in avanti ancora si scivola terreno umido anche lui bello umidoso dal caldo di questi giorni ecco la panchina con Simone Noria e i dirigenti ecco il Michele Norato a centro campo il nostro direttore sportivo parte un bel cross uh sbuccia 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 ancora la palla è buona bravo il nostro difensore centrale con la maglia nera riparte il 2007 centralmente bella l'incursione gran corsa dopo quattro mesi c'è già un un buon approccio alla partita per l'ingresso in area del nostro laterale parte un cross calcio d'angolo dalla sinistra quattordicesimi voto corto eccolo palla centrale riesce bene il nostro difensore centrale rosso e lancia il collega di reparto ma palla ancora buona esce la palla battuto non benissimo il laterale riparte nei rossi dalla destra ma il difensore c'è pallata dal nostro portiere e dopo 15 minuti intensi fine primo tempo si finiscono i due gruppi con Simon Lauria e con Santo Morreale e con un bel gruppo giallo e il gruppo rosso del 2007 di Santo Morreale vediamo adesso se riusciamo a rubare qualcosa abbiamo noi diritti che è rientrano le squadre come è la condizione raga stai in forma dopo quattro metri senza calcio come si sta spacchiamo quest'anno bravo ma qual è il tuo ruolo sterno sinistro è il tuo porco boi questa è lo stesso ruolo secondo tempo questa partita in famiglia questo 22 luglio 2020 pochi cambi nel 2006 cielo veramente greggissimo qua in via Mercadante bello i colori ma un cielo minaccioso che anche lui assiste a questa partitella in famiglia 0-0 il primo parziale ma come abbiamo detto che oggi è il giorno del ritrovo quindi partitella in famiglia partitella con i rossi del 2007 e i gialli del 2006 i gruppi sono ancora non completi non stupitevi se manca qualche vostro amico alcuni sono al mare alcuni sono infortunati alcuni hanno altri impegni quindi bello il tiro bello 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 è gol della domenica il secondo minuto segna il nostro amico del 2000 2007 domenica mercadante 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 1-7-0 il 2007 in avanti 1-0 gran gol dal limite dell'aria secondo minuto dopo il bel gol del nostro amico del 2007 riparte il mercadante giallo che cerca di far valere la loro anzianità di un anno apertura sulla destra le squadre hanno la stessa posizione del primo tempo quindi per questo non valla ancora centro aria alla prima occasione il 2007 ha punito il nostro portiere con un bel tiro libera la vita del parroco del nostro amico del 2007 salutiamo il parroco del mercadante ancora il 2006 in avanti recupera bravo il nostro 2007 rosso ancora il 2006 al centro al campo cerca di pareggiare questa bella gara gara di sport mi raccomando non vale tre punti ma è bello uscire poi come sempre vincitori anche da una partitella ancora il 2006 giallo in avanti gli altri ragazzi sono in fondo potete vedere quindi probabilmente si prepareranno un'altra partitella con il gruppo probabilmente 2005 che sono qui le mie spalle ecco la c'entro recupera la palla 2007 si lancia tentativo di fallo bello passaggio centrale è bello anche la difesa che chiude bene attenzione grosso pericolo minuto 6 penso 6 su 15 lancio lungo la palla termina in laterale recupera la palla ai rossi 22 luglio 2020 stiamo chiudendo il luglio 2020 col botto ieri 2004 juniors adesso 2006 2007 ma cosa volete di più della vita ma cosa volete di più il nostro gioco centrale del 2007 dai vai eccolo eccolo penetra penetra si allarga va verso l'esterno arretra passaggio di dietro parte un bel cross a candela libera il difensore leggero fallo del nostro attaccante già rosso ancora ancora il rosso palla centrale tira bravo bravo il portiere in due tempi in calcio d'angolo calcio d'angolo a uscire libera il 2006 ancora la palla ai rossi parte il contropiede 3 contro 1 i gialli sono un po' in inferiorità si allarga sulla destra è arrivato un altro ma siamo sempre in inferiorità scambi veloci cambi veloci è rientrato il ragazzo con la maglia nera eccolo lì bravo finta e poi fa ripartire i rossi libera il difensore la palla ancora bella l'apertura sulla destra il 2006 prova libera il 2007 riparte il rosso bravo questo ragazzo con le strappe verdi un bel peperino sulla fascia bari centro basso è una grande velocità grande ribli ricordiamo che la condizione è quella che è naturalmente 4 mesi non si non si diventa quello di un giorno anche questo ragazzo qua abbastanza veloce bravo pala lunga diamo un pochettino se ci arriva il portiere bravo il portiere del 2007 parla ancora sulla destra il limite dell'aria riesce rientra il pubblico borbotta qua le 10 spalle siamo già abbastanza caldi quindi si prepara il tiro bello pala esce riparte il 2007 centralmente lancio lungo bello sto passando il centrocampo siamo all'undicesimo copre il nostro difensore il 2006 palla ancora recuperata dal 2006 c'è il carattolo c'è Apertura sulla destra La freccia gialla va Palla va in fallo laterale Recupera il giocatore del 2006 2006 giallo contro 2007 rosso Via Mercadante 1-0 per i rossi Inizia a piovere Porca miseria ragazzi miei Rischiate di perdere il secondo tempo Mandevai parte il rosso Sulla sinistra Ancora il 2007 in drivide Si prepara il tiro Davanti tiro Bravo portiere Bella azione del 2007 Tambureggianti al tredicesimo Sempre 1-0 Qualche goccia più grossa questa volta Il signore del mercato Rosso Rosso E' rosso questa Mi dispiace Rosso Salti due turni Finita la partita 1-0 Dentro Or... Ma che bla